Il 20 ottobre l'Accademia di Belle Arti di Macerata conferirà il premio Svoboda e il titolo accademico onorario all'architetta siciliana Maria Giuseppina Grasso Cannizio. La seconda siciliana dopo Emma Dante che lavora appunto sullo spazio vuoto che viene riempito da contenuti di carattere architettonico in qualche maniera nella filosofia tipica, nell'approccio tipico del creativo artista. L'evento segna la dodicesima tappa della rassegna non a voce sola e l'ultimo intervento pubblico della direttrice Anna Verducci, anche lei architetto. Mi sembra una fortuita coincidenza quella di chiudere, perché non è stato programmato in questo senso, di chiudere il mio mandato con un architetto femminile al quale appunto consegnerò il premio Svoboda al talento artistico e creativo, titolo di accademico onorario, nell'ultima presentazione pubblica del mio mandato. Ecco, quindi i significati, che cosa significa? Forse mi entusiasma l'idea di tornare ad altri tipi di progettazione, dal mondo accademico, comunque di continuare la mia ricerca nell'insegnamento, nella docenza, in elementi di architettura urbanistica, che quindi ripianifica il mio cuore. Oltre all'architetto Maria Giuseppina Grasso Canizzo c'è anche l'architetto Anna Verducci che dopo dieci anni ci lascia e la saluto con grande ramarico per la sua dipartita e un ringraziamento particolare per la collaborazione che abbiamo avuto a livello professionale e il grande affetto che gli devo invece a livello umano.